Ho scritto a 5 youtubers e li ho fatti sfidare in queste challenge custom fatte da me Se vinceranno dovrò pagarli e di certo non è quello che voglio che accada Sfida 1, TNT Run I concorrenti dovranno correre su tutte queste TNT Ed ogni minuto guadagneranno 100 euro 3, 2, 1, via, vai, Zerby, puoi iniziare Ok, Foxy tranquillo, io sono un animale su Fortnite Cioè su Fortnite Qua ti faccio sbancare, qua ti faccio sbancare Io te lo dico Oh, ma non sono più Le TNT esplodere dietro di me che stanno cadendo Siamo a 10 secondi, non hai ancora vinto un euro Non te la dar vinta, potrei anche sabotarti Ok, sei andata la grande Siamo a circa 20 secondi, ora non sto tenendo perfettamente il calcolo Ok, siamo a 10 secondi, ogni minuto sono 100 euro Ma come ogni minuto, fra? Io pensavo ogni secondo, ma che c***o Prepara i soldi 40 secondi, ultimi 20, Foxy Questa volta me li porto io i soldi a casa, così impari Dai vedi i soldi, il bonifico bancario come lo vuoi Paypal, bonifico, cash, cosa preferisci? Cash, cash Ah, ma io posso anche saltare No, aspetta, fra No, fra, aspetta un secondo perché ti spiego un attimo una cosa Questa qui era la prova Hai vinto 33 euro Foxy, sono immortale, lo capisci? Oh, f***o No, 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 fermo, fermo, fermo Ma se tipo io piazzassi una roba del genere, tipo No, 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 non lo fare Non lo fare, non lo fare, non lo fare Non lo fare, oh, dai, c***o Potrebbe ricordarsi la situazione, no? Vabbè, se io tipo ti piazzassi così Oh, oddio Provaci un'altra onda No 42 secondi Quindi vuol dire che hai vinto 42 euro Un minuto e sette, hai vinto i primi 100 euro Let's go No, no Ok, vabbè Ok, il tempo sta andando avanti Il tempo sta andando avanti, grazie Vabbè, rip Vabbè, 100 euro Dai, ma non vale Ma sei un pezzo di me Il tempo, siamo arrivati a un minuto e venti Hai vinto 100 euro, dai Sfidati diamanti Ogni concorrente dovrà scegliere una fila E scavare finché non si arriva alla lava Per ogni diamante guadagnerà 10 euro Se cade la lava, perde tutto Ok, vai, scegli la tua fila No, aspetta, fra Fammi un favore Togli sei blocchi invisibili qui un secondo Proprio un attimo solo fra No, no Vale, sei pronto alla tua prossima sfida? 3, 2, 1 Via Vai Prendo questo, prendo questo Io so che sei infame Quindi i lati sicuramente non li scelgo Secondo me Questa è quella giusta Vabbè Oh, hai preso quella giusta Ok Il primo No, è la mia rica fortunata Scegli questa riga Ok, ti ricordo che ti puoi fermare quando vuoi Vai, scegli, scegli Secondo me tu sei un po' s*****o Quindi scelgo Non quella con i diamanti Ma sceglierò Non esiste Devi scegliere solo quella con i diamanti Vabbè, ok Oddio, ho paura Ancora uno No, porca p***e Ok Oh, godo Ti ricordo che c'è la lava C'è la lava Sono 10 euro ogni diamante C'è la lava Mamma mia Quindi Ma io mi posso anche fermare Ti puoi fermare quando vuoi 3 Ok Che fai? Non scavi un po' s*****o Hai perso tutto Sì, ti puoi anche fermare Non lo so, eh Non lo so Un altro Ti fermi Un altro Un altro ancora 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 Mi fermo Mi fermo Vai, ok Dai, scavano un altro Scavano un altro Aspetta un secondo Perché io ho una tecnica infallibile Adesso te la faccio vedere Cioè quella che scavo Poi salto Non lo farò Che tecnica di me Va bene 13 diamanti 13 diamanti Ne avevo altre 20 di sotto Però ok, va bene Passiamo alla prossima sfida Sfida del ponte Ogni persona dovrà fare un ponte Senza mai premere shift E per ogni blocco che piazzerà Vincerà 10 euro Se cade in la lava Beh, ha perso tutto Ok, ponte senza shift Vai, puoi iniziare Tranquillo, fra Sono un esperto io di Minecraft Tu non hai capito Sì, vai Ok, ogni blocco 5 euro Ti ricordo Oddio Ok Oh, guarda Attenzione Ok, prima vita sprecata Vai un ponte senza shift Iniziamo bene Perfetto Prima vita persa Ok Hai un altro tentativo Ok Seconda vita persa Ok, vai In teoria Ora Ok Hai altri due tentativi Ma come 5 Ma fra Guarda che io andando così lento No, fra No, no Aspetta un secondo Aspetta un secondo Aspetta un secondo Questa che era la prova Era la prova, fra Meno una vita Era per riscaldarmi Vai Ok Dai Ma è possibile Sei tutti noi Sisa, vai Ok Vai Vai Ok, hai vinto 20 euro Ti ricordo che sono 5 euro ogni blocco che piazzi Ok, ok 3, 2, 1 Vai Ok, primo Secondo Terzo Oh, ok Guarda che sto usando delle tecniche veramente forti E che tecniche, vai Fra sei stato quello che ne ha piazzati di più di tutti forse, sai? E' certo, perché Zerby non sbaglia mai Vai Vado, eh Vado, eh Questo è il mio tentativo Questo è il mio tentativo Mi raccomando Oh, ok Si sono baggati i blocchi Ok Ok Ok, vai Oh, il primo lo piazzo sempre perché mi viene più basso Ok, sì, sì Vai, vai 3, 2, 1 Dai, 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 dai Oh, no Bene, oh Niente male, sono 40 euro easy Questi li hai 20 Sono o non sono una delle persone più forti della storia di Minecraft Vai, vai, vai Oh, oh Dai, oh Dai, ci stavo riuscendo Oh, Dio No, giuro, frano, mi sto shiftando No C***o Tranquillo, 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 tranquillo Ti mancano 20 blocchi, non lo so Vale 26 blocchi Ovvero 130 euro Che questa volta li hai vinti Ah, ma, ma Silenzio, Foxy Mi serve, mi serve concentrazione Oh Oh È il più forte di tutti Il migliore Come al solito, Zerbi Hai vinto 210 euro Ok 210 Però visto che sono io Facciamo che si fa per due 210 210 Ogni persona dovrà cercare di uccidersi in meno di due minuti Più tempo passa e più soldi perdono Il timer inizia fra 3, 2, 1, via Ok, hai due minuti per ucciderti Stai perdendo soldi anche in questo momento Due minuti di tempo Provo a spaccare dei blocchi Provo a spaccare dei blocchi Cioè, io vorrei capire Ma c'è un modo per riuscire a O a morire Devi cercare di ucciderti Hai qualsiasi metodo per ucciderti C'è dell'acqua Lì c'è un pistone Lì c'è una leva Ci sono dei blocchi Non posso far nulla Cosa posso fare? Perché sto perdendo soldi? Perché ogni minuto che passa Ogni secondo che passa Perdi più soldi Capito? Aspetta Aspetta Ok 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 tranquillo Ho una tecnica Ok ho trovato una tecnica Ok ok Forse ho trovato una tecnica Ok Quindi Oh Che genio Veramente un genio No vabbè Aspetta Come si fa Sì certo No No Ma che versione di merda Che versione di merda Come che c***o faccio fra C'è Oh No Non funziona così Dai dimmi come si fa Ti do un indizio Prova a negarti Ehm Così Va a perdere tempo Ehm Ma no scusatemi Ma è infattibile Ehm Vedi tu Non lo so Ti arrendi? Sì Ti arrendi Ok Ciao Adio Lì c'è un pistone E lì c'è una leva Non ti dico altro No aspetta fra Aspetta Una tecnica c'è per forza Ah forse l'ho trovata Forse l'ho trovata Ok Ora ce la faccio Ora ce la faccio Ora ce la faccio Un minuto e venti Un minuto e venti Hai 40 secondi per ucciderti Ok 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 Vai Ti prego Come faccio? Dai ti do una mano Ok ti do una mano Allora guarda Ok facciamo così Aspetta Quanto tempo manca? Quanto tempo manca? Ehm 30 secondi tipo Come fare a mancare solo 30 secondi? 30 Perché non va? Forse Vai Ti lascio stare a te Vai Ok Se metto il pistone in questo modo Ok Vai vai Ok Ok ora devo solamente aspettare Ora devo solamente aspettare Ok hai 30 secondi vale Devi morire entro 30 secondi vale Ok Vai te la prevo io Vai Oh si No 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 ripremilo ripremilo Ma non può andare Guarda qui va Ok aspetta aspetta Ma che cos'è sta cosa fra Ce la farò Ce la farò ce la farò Ce la farò Ce la farai cosa Non puoi spaccare No mi spinge Mi spinge Ok sto morendo Sto morendo Sto morendo Ripremila Ma che c***o Fra No riballo 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 mannaggia me 17 Dai 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 ce la faccio Ce la faccio ce la faccio Ce la faccio No mori mori Ti prego No no mori Non devi morire No mi sa che ho perso fra Hai pochi secondi Sì mi sa che hai perso Si arrenda Allora dimmi come si fa però adesso Voglio sapere come si fa Dico come si fa Dai ora comincio a prendere danno Muoviti 2 1 E niente Rip Finito il tempo Ok No 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 Sette secondi Vale Sette secondi Quattro Tre Due Uno Hai perso Sfida del parkour Per ogni livello vinto dal concorrente Si guadagnerà la cifra scritta di sopra Il parkour diventa sempre più difficile Fino ad arrivare alla modica cifra di 5000 euro Ok Sfida del parkour Vai Sì Ok Tranquillissimo Allora vedi che hai un solo tentativo Attento eh Vai sei pronto Ok Ok Perfetto Ok Così 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 Ok Sì Perfetto No Eh vabbè Rip Vai Sisa Parkour Sei tutti noi Ti ricordo che puoi E niente Ok Hai vinto 10 euro Hai vinto 10 euro Vuoi andare avanti Cioè ho fatto tutto sto casino qui Solo 10 euro Fra almeno 50 Ok Ok Mi devo concentrare Hai vinto 10 euro Vale Hai vinto 10 euro Ti ricordo che puoi fermare Quando vuoi eh Ok Se continui e cadi Non ti darò neanche un euro Qui sono 200 Vuoi andare avanti Sì Ok Se cadi per i tu Vai vale Ah Dai ho tutto niente Oh no Zero euro per vale L'ultima sfida è la migliore I concorrenti dovranno fare tiro al bersaglio Su due di questi pianeti E dentro il pianeta c'è scritto la cifra Che avevano vinto Hanno solamente due frecce a disposizione E ci sono anche dei pianeti con Un bel prezzo di vincita Sarà il giocatore che vincerà di più Lo scopriremo subito Sfida dei pianeti Ok vai Scegli i tuoi due pianeti Ok ok tranquillo Foxy Tranquillo Vai Ho tutto niente Ho detto prima Oh lo becco Lo becco Foxy lo becco Secondo me Dato che tu sei uno stercumero umano In quello degli avanti Sono sicuro che c'è qualche trollata incredibile Quindi io opto per quello Quello della terra Quello della terra Ok Sì vediamo un po' Puoi scegliere due pianeti di questi Ok vai Ok L'ho preso Sì sì l'hai preso Ok Quanto hai vinto Oh Hai vinto Un euro No ma come un euro fra Ti prego Ti prego Oddio Sì l'hai beccato Oddio L'ho beccato Vediamo Ok 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 100 euro Ma 100 euro dai Non è tantissimo Ma come non è tantissimo Ma come Vabbè Vediamo un po' Quanto hai vinto Oh Quanto 50 euro Eh 50 euro dai Ok 50 euro Lo sapevo Ho solo un cecchino Ancora una freccia Foxy non so perché Ma mi sento fortunato Con quello di smerato Ti senti per un tu Vai Ok vai Un euro bravo Vai Hai un altro Vai Un altro Vado Ok Sì 100 euro Oddio Non lo so Oh si l'hai beccato L'ho beccato Ti ho vinto Non mi renderizza Non mi renderizza Quanto è 50 euro Vediamo L'ho preso L'hai preso Sì Ma bravo Sono fortissimo con l'arco Vediamo un po' Oh 50 euro Oh 50 euro fra Non è per niente male Sono stato male qui Oh Hai vinto 150 euro Cara e sisa Ma penso fossero 50.000 Ma sei un poverazzo 50.000 è che è Chi vuole essere il miliardario 1050 1050 1050 E va bene